Avanti senza remore né tentennamenti. In attesa che il TAR si pronunci sulla legittimità del ricorso presentato dalla Blanchère, le diplomazie sono al lavoro per tentare di trovare una mediazione positiva per tutti, proseguono a ritmo costante le riunioni e gli incontri per pianificare al meglio l'edizione 2017-2018 di Lucida Artista. Si montano le installazioni e contemporaneamente si mette a punto il piano di sicurezza e mobilità, quest'anno appesantito dalle misure antiterrorismo introdotte dal capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, di concerto con il ministro Migniti. Anche perché quest'anno rispetto agli anni passati c'è la necessità di adeguarsi a quella che è la cosiddetta circolare Gabrielli, la circolare che impone dispositivi specifici per mitigare i rischi legati ad eventuali attentati terroristici, ma anche per quanto riguarda come governare al meglio eventuali vie di esodo in caso di necessità. È in dubbio, come dicevo prima, che dei sistemi andranno implementati, è in dubbio che dovremmo conciliare le due cose, cioè garantire comunque una permanenza con serenità, tranquillità e tanti ospiti che registreremo in questo periodo, ma nel contempo alzare significativamente i dispositivi di sicurezza. Quest'anno noi dovremo elaborare un vero e proprio piano, perché la circolare Gabrielli impone l'elaborazione di un piano per la sicurezza con la relativa responsabilità del coordinatore della sicurezza e quindi un ulteriore impegno che noi chiaramente manterremo e che garantirà il perseguimento degli obiettivi che la circolare impone. Novità rispetto alle edizioni precedenti? Mi riferisco ad esempio allo stazionamento dei bus, alla previsione di aree di parcheggio ex novo? Avremo sicuramente un'implementazione dell'area di via Vinciprova che consentirà di avere una disponibilità maggiore di aree per i pullman, sicuramente dal punto di vista logistico, strategico è il punto meglio collegato, nel senso consente ai pullman di arrivare nel cuore della città, però sull'asse terminale di una strada importante come la Lungo Irno, senza invadere il centro abitato e lì c'è la possibilità poi degli ospiti di poter raggiungere anche a piedi il centro città. Implementare le aree a servizio di questo sistema in via Vinciprova sicuramente garantirà un elevato livello di servizi migliori per tutti i sistemi della mobilità. La solita piattaforma allo Stadia Rechi con annessa metropolitana, collegamenti al porto? Sì sicuramente, poi implementeremo anche le aree che possiamo avere come disponibilità nell'ambito del porto, ne parleremo adesso con il nuovo comandante, però il dispositivo è già quello messo in campo negli anni passati, tutti questi dispositivi che individuano aree nell'area circostante il centro urbano ci consente come dicevo prima di migliorare significativamente il sistema della mobilità nel suo complesso. Grazie